Mi sa che prende fuoco eh. Comunque attaccalo Lello, attaccalo perchè ancora va. K. Cisua. Vado giù. C'è un contatto basso sul treno eh. Sono io, sono io. Ah ok. Sganciato. Dai Luca, un'azione bellissima comunque. Stiamo tutti qua eh. Tutti in protezione. Dai, dai che l'abbiamo preso. Dai, 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 dai. L'ho sganciato. No, no, cazzo, va ancora. Ma che corazzato. Ok, strapping. Vado. Vedo uno che sta accendendo in attacco. No, no, è andato, è andato, è andato. Visto. Ottimo, via. Ottimo. Ok, allora, leader posizionale. Lontaniamoci di qua. Rua 090. Ok, vedo, mi ricongiungo. Vuota? La stessa che il tuo adesso. Sentiti qua. Salite, salite ragazzi, salite. Mettete un marito in dietro. Mettete un marito in dietro. Non vorrei che arrivassero 20-30 caccia nemici. Tanto per vincere qualcuno. Facendo le luci, eh. Facendo le luci un attimo. Guarda. 2-0-9-0. Ti vedo. Visual, visual. Visual, spegni, spegni. Buon suo, buon suo, buon suo. E là. Ciao. Grazie. Ciao. 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 facciamo accende la luce 3 informazioni e a sinistra andiamo in caccia? siamo in 3 si direi di si pensa ce l'abbiamo attenzione v se si 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 se si 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 quanto sei di manetta Claudio? 13 euro papà ok informazione oreo ok ok papà come siete? italian wing come te ho vinto eh si scusami non va a cagare dico come se catt eh dai sempre quello dai sempre quello aeroporto di rinoc bambini di tutto l'acqua fred da di l'acqua di l'acqua di l'acqua di di l'acqua di l'acqua di tenendo occhi le nostre ore 11 e 1 un po' 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 se vado piano ditelo a chiacciare come? se sono troppo lento ditelo beh per me sei un pochino lento però per chiarità non lo so cioè poi dipende molto molto soggettivo alla cosa dipende da.... no no sono lento solo per agevolare il volo a voi che cazzo dio se vuoi anche aumentare un po' va bene metti il 7.0, dai, 2400 ok ciao la neve che bella nessuno direi invece ne sono tanti di piloti in buono no no, c'è nessuno qua che copre siamo sull'arpineria russa sto arrivando al fio come c'è il target questo è il target magari mi piace vado giù, andiamo giù a fare un po' di straffi, dai la tua voce è piena vado giù eh si, vabbè lo vai a colpire eh la figlia mia ma la vedi? si, 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 si vede fino alla destra sono delle passate veloci eh va bene Lello mi metto sempre come te, se passa pure avanti adesso io ho guardato giù un attimo vi ho perso, cazzo gru a 1, 1.5 giù a tutta velocità eh l'arget è in vista l'arget è in vista e dovete vedere il basco che fa la voce ok, visual vado vado guarda fuori e io vi sei gol ok l'arget no no che f*** l'arget è in vista che f*** l'arget è in vista vado giù vado giù vado giù la cassa no, nemmeno io ok d'altronde se vuoi sopravvivere a uno strapping devi fare così si, si no no, pigli o pigli pigli o pigli pigli o pigli se no ti consegna il nemico ok ritroviamo eh si, poi è bene allontanarsi un po' è bene allontanarsi un po' perché così non dai punti di riferimento all'avversario che ti insieme manetta 8-5 ti ho perso il nuvole siamo sotto sotto sopra sotto la nuvola sotto sotto imbirato a sinistra eeeh ci f***o fuori ora Lello alla tua sinistra ti vedo alla tua sinistra andiamo tornando indietro è perso e cassa qua datemi una prua perché non vi vedo 2-8-0 2-9-0 hai visto? ok, vi vedo qualcuno in mirata a destra di voi? io, Manta K mi metto per 2-9-0 perché stavo un po' sbagliato ok, vedo ok, tutta manetta ok, cerco di distruggere quella Flak lì che sta sparando con me lo stesso via di fuga è sempre 2-9-0 via di fuga è sempre 2-9-0 1-9-0? 2-9-0 2-9-0 buono, bello ok, torniamo indietro ok, torniamo indietro ho visto ho visto? sono io K allontanati ancora un po' la faccio una virata una virata più larga questa sono io che sta passando in direzione contraria ti sto passando in alla destra ho visto ok vedo l'ello aspetto che mi entro indietro vieni a far fuori sta cazzo di Flak che rompi i coglioni da matti non c'è rimasto molto eh eh, il cibo c'è ancora poi sì, c'è rimasto 6 cose il carburante la parte di Sialmosco eh 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 eh